è tutta una mafia 110 110 metri 110 metri prendi pure sti tu altri spazi 1 io ho fottuto dall'infermiere va 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 mette giù Bardelli con la vessina rimpallo esce vincitore bianca ancora Virdis Virdis Cubides ancora Lombardelli cambio del carsoncino Lombardelli è brutto ancora Scucci mette dentro vessina Retti quanto segna ha fatto pure rumorino signor rimpianto fuori rimpianto 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 No 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 no, se non s'è un po' di giusto Ah ma io gli ho due, certo No, non ti sento niente, però perché non sono due Non si vede, non si vede, ma non si vede È giusto Ma dove? Va bene, voleva il mio capo Dai, no, oh, dietro Dai, no, dietro Dai, no, no, non si vede No, a te, ti do, ma Ti leggerò pure voi che è già giusto, ragazzi Canta! Oh, che angolo eh! Oh! Guarda quello che è stato! Sali, sali subito! Guarda, guarda, bravo! Oddio! Ma che c***o! Che c***o fai? Sta buono, sta tranquillo! Oh, bella di m***a! Bravoci! Dai Giona, tranquillo! C'è riasi! Abbatta voi che brutta troia! Oh! Vai Marco! Che c***o c***o c***o? Oh, che c***o c***o! Oh, che c***o c***o! Problemini, a essere sincero! Con la panza? Sì, madre guada! Bucca mia taci! Psss! Non ho fatto con il tutto il corso? 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 Non ti so dire, c***o! Io vi dicevo 5 minuti e 5 minuti! Oh! Alla terza è io? Dai! No! Alla terza è il peluccio! Pregherà! Andrea, la prossima nostra! Uno! Ho già fatto con il gloveito! No! La prossima no! È proprio i diritti! Che si sm Vilbr continuous! Oh, ma è giocare! Oh! Uno! Amích! Dio, bravo Gianluca! Portiere! Quanto stanno? 7-4 Chi ha vinto? No! Non ti dico... Non ti dico... Cagliari Sassuolo è il derby No! No! Io, io voglio inserire il bianco Oh, il Sassuolo gioca in Emilia In Emilia? Eh no, io Ma non è sassa! Dai, è buco! Quanto manca invece alla fine? Mi scusi! Grazie! 12 minuti Ma è rimpondo! Non ho detto niente Vai in là! E E E E E E Gio E Ecco lo gioco! Oh stupido! Bravo! Bravo! Mazzarelli! ma c'è un po' bello, ma perchè? se non mi ricordo dentro, faccio vedere fantazzi, batti lei? ma che è da del tu? no, è congiuntivo fantazzi, dichiari il suo stato lei è una mer? una medusa? fantazzi, non mi facci incazzare lei è una mer? una meringa? 4 minuti di applauso sono le 20.10 e 7 dai, finisci a 10 e ce ne andiamo a fare in cubo first care stanno sotto al freddo non vuoi dire non vuoi fare il giorno quello schema che hai fatto con la roba io ce l'ho ancora tutti conservati cosa era? lombarda tira a calcio, a figura di De Pascucci lo fa passare senta con l'accento, lombarda libertà, tolite! ooooh bella cartelluca ma volendo portiere? volendo si giova giova, venga il portiere quando vai così per un quarto di più ho 40 secondi di ripresa ce la fai a 30 adesso difesa che è? ma fuori ho? non penso che mi fa tagliato, sai quale fa... tante le chi snapperla ho sempre perdone ho sempre perdone uno fa... adesso chiamo l'aci per vedere sì il viaggio andrà bene o più rimani esci? pronto esci? mi devo dirigere verso Roma per le votazioni ci siamo